Allora ragazzi, vigilia, non di Natale, ma vigilia di Napoli, Liverpool ragazzi, ovviamente neanche a dirlo, ci sono i brividi sulla pelle, c'è l'emozione, l'emozione forte di rigiocare la Champions, erano due anni che Napoli e che il mio Napoli non giocava la Champions e la Champions League c'è quella emozione, quella agitazione, pure perché la prima partita in casa, quindi al Maradona, ed è la prima partita in casa, è contro ma big, contro il Liverpool, ma big ovviamente ragazzi, ci sono dei nomi nel Liverpool, Salamani, c'è Klopp che è un allenatore, in passato, a parte che il Liverpool ogni volta che Napoli gioca la Champions, becchiamo il Liverpool ragazzi, ma io non lo so, siamo abbonati, ogni volta che Napoli fa la fase agitoni, becchiamo il Liverpool, e ci buttò fuori il Liverpool, perché comunque Napoli all'epoca avevamo fatto un grande errore, Napoli vinse a Napoli, vincemmo con il Liverpool e facciamo 1-1 in casa del Liverpool, quell'1-1 ci costò caro perché Napoli vincevi a 1-0 e passavamo, e quindi ragazzi purtroppo venimmo eliminati, di nuovo il Liverpool, speriamo che la sorte adesso sia diversa, Allora ragazzi, partita è difficilissima, ma mi era mancato tantissimo, sentire l'urlo di Champions, di tutto lo stadio, lo stadio Maradona, da pelle doghe, da brividi, non vedo l'ora, e la farà su Prime Video, e dai miei ragazzi, ho dovuto fare pure l'abbonamento di Prime Video, per vedere la partita, cioè per Napoli si fa questo e altro, però cazzo, quanti abbonamenti bisogna fare a maggior un Prime Video, Sky, mamma mia, sta diventando veramente il calcio, il calcio, il business veramente, Detto questo, partita è difficile, spalletti, ho visto che si è operato, spalletti così, come diciamo a Napoli, belle e buone, cioè all'improvviso, si è operato alla spalla, spalletti, alla clavicola, non sta bene, però c'è una fasciatura, domenica mattina, da quello che ho capito, si è fatto male, è caduto o non ho capito, e ha fatto la conferenza stampa con la fasciatura, in bocca al lupo, a spalletti, in bocca al lupo mister, Mamma mia ragazzi, io veramente faccio le corna, da una buona napoletana scaramatica, gli occhi addosso che abbiamo, idem Osimèn, gli occhi addosso che abbiamo, Osimèn ha un piccolo affaticamento, non ci sa se si gioca o no, 50 e 50, e da una parte lo vogliono non far giocare per paura che peggiora, 90 minuti giocando sopra all'affaticamento, poi da una parte vuole giocare perché Osimèn vuole esserci, vuole giocare la prima partita di Champions League in casa, e contro il Liverpool, ragazzi non si sa, non ci voleva, perché con Osimèn giochi con un modulo, con Raspadori o Simeone giochi in un altro, e poi ragazzi, Osimèn, per quanto anche lui abbia tanti limiti, ma corre veloce, ci serviva tantissimo se non gioco a Osimèn, sono cazzi, sono cazzi perché Simeone e Raspadori, io non capisco perché ci sostine, io non so se Simeone sta fuori forma ragazzi, perché ci ostiniamo e ci stiamo sempre a mettere Raspadori e non Simeone, a questo punto mi fa pensare che Simeone non sta in forma, a questo punto mi fa pensare che oltre a non stare in forma, Simeone la Spadura attualmente dà più garanzie, sia a livello tecnico, che a livello tattico, e a livello di forma fisica, perché non ti spiego come mai Simeone sta giocando quasi mai, e Raspadori tanto, quindi se non giocassi Osimèn gli avrei voluto vedere Simeone, pure perché Simeone è argentino come Maradona, lo era, e gioca la prima partita di Champions League, perché Simeone non ha mai giocato la Champions League, perché è stato nella Fiorentina, nel Verona, che non ha mai fatto la Champions ovviamente, e quindi sarebbe il suo debut contro il Liverpool e la Maradona, sarebbe bello, io metterei lui, però se non sta in forma e non sta bene, devo andare a Raspadori, Raspadori pure forte ragazzi, Raspadori e Simeone secondo me sono entrambi ancora non in formissima, forse è molto di meno Simeone, Raspadori e Simeone sono forti, però devono ancora amalgamarsi bene con la squadra, ci vuole tempo, perché giocare al Verona e giocare al Sassuolo con tutto rispetto per il Verona e il Sassuolo, ma il Napoli e il Napoli, il Sassuolo e il Verona sono altri, al Sassuolo e il Verona gli devono solo dovete salvarvi, poi quello che esce è di più, invece giocare nel Napoli, che ti dicono devi provare ad entrare nei primi quattro per andare in Champions League, e fare un miracolo in Champions League per andare avanti e provare un domani e vincere lo Scudetto è tutto proprio un altro mondo ragazzi, quindi giocare nel Sassuolo e nel Verona è totalmente un'altra cosa, ha bisogno di tempo sia a Sassuolo che a Simeone secondo me, forse più Simeone ancora più bisogno, 3 e 4 a Sassuolo lo vedo più pronto, proverei anche un domani a far giocare Simeone o Simeone insieme, perché secondo me insieme potrebbero giocare bene, detto questo speriamo bene, partita tosto ragazzi, io ma non lo so, è difficile, è difficile perché comunque c'è Meret, penso che giochi Meret a Porto, io metterò Sirgu perché ha esperienza, è avanzata, ha giocato la Champions League col PSG rispetto a un Meret un po' più in su pure eccetera, però io credo che giochi Meret, purtroppo, Meret devo dire a verità fino ad oggi in queste 5 partite di campionato mi ha fatto ricredere, ho fatto delle buone parate, sveglio, però ragazzi a me quando vedo Meret mi viene l'ansia, non è un portiere che mi dà la sicurezza di dire che la difesa la comanda lui, sicuro, con i piedi mi fa paura, quindi io avrei pensato se comunque un altro portiere, ed è c'è Sirgu, avrei pensato Navas che trappo un altro però di esperienza anche per fare la Champions, però ragazzi non si può prendere questi, c'è Sirgu, io lo avrei messo, poi penso che giochi Meret, partita difficile, ripeto, molto difficile e ostica, notte, questa è la notte da Champions, notti Champions, ragazzi, o la va o la spalla, come va, forza Napoli sempre, forza Spalletti, l'importante è giocare una buona gara, l'importante è uscirne non con le ossa rotte, tu puoi anche perdere, perché ci sta che perdere con Liverpool, è più forte di te, noi siamo inferiori, ci può stare che prendi un paio di gol, però ragazzi, sempre, non facendo figure di M, e sempre, ovviamente, non faremo la figuraccia, puoi anche perdere 2-0, 3-1, 2-1, ma l'importante è non prendere una paliata, 5-0, 4-0, per fare le figure di M, quindi, vedremo, abbiamo bisogno di Kim, nostro coreano, Kim Ye, i Rachmani, anche Salo, Botte, abbiamo bisogno di una prestazione, tutti i terzini devono giocare bene, Meret, se gioca, deve parare bene, e io lo applaudirò, non vedo l'ora, perché uno che è amante del calcio, come me, e tutti gli amanti del calcio, non vedo l'ora di vedere la propria squadra in Champions League, che ragazzi, non me ne vogliano l'Europa League, non me ne vogliono soprattutto la Conference League, ragazzi, ma la Champions League ci sono nomi, e ci sono partite, brividi, non me ne vogliono, non tanto l'Europa League, perché comunque spesso in Europa League becchia la squadra della Conference League, la puoi anche vincere la Conference League, però a me non mi dà quell'emozione di giocare la Champions League, o di vincere un'Europa League, già vincere l'Europa League è meglio, non me ne vogliate. Detto questo, speriamo bene, forza la vorrei sempre, forza Spalletti, mi auguro che gioca Osimena, se non ce la fa, speriamo bene l'Aspadoro e Simeone, bisogna fare una grande difesa, ragazzi, soprattutto con l'attacco omicidale di Liverpool, bisogna fare una grandissima difesa, perché sennò prendiamo una mazziana. Ripeto, ci può stare a perdere, ma l'importante è non essere umiliati, che mi ha una figura di me, non la voglio fare, grazie. Poi, se vinciamo, per me è una gioia immensa. Il pareggio, oggi il pareggio è un po' scialbo, però ragazzi, è il Liverpool, in passato l'abbiamo battuto, però era un'altra squadra, Insigne, Mertens, adesso è una squadra lunga, sono tanti ragazzi giovani, abbiamo tanti ragazzi che sono appena venuti, vedremo, facciamo le corna, forza Napoli sempre, sì sì sì, sono molto agitata, emozionata, però forse farò la live reaction, però registrata, quindi dovrei fare la live reaction registrata e poi la caricherò, oltre al commento, il post partita, dovrei fare anche la live reaction, perché sono da sola, credo, quindi posso riprendermi e farò vedere le mie bestie, le mie gioie, speriamo più gioie che bestie, forza Napoli sempre. no